Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mattreo Trovalusci, che mi chiede di parlare del film del 1994, facente parte della trilogia dei tre colori di Chieslowski, il film Bianco, appunto con Julie Delphi nel ruolo di Dominique e il bravissimo Zibnitz Zamachowski nel ruolo appunto del marito, Carol Carol, che all'inizio del film viene portato in tribunale perché la nostra vuole il divorzio perché dice che il matrimonio non è stato consumato e quindi il nostro praticamente perde tutto perché non riesce poi ad andare a letto nemmeno con lei la sera, viene cacciato, perde tutto, rimane con una valigia, due stronzate e da solo in mezzo al niente, dopo aver chiesto appunto, ma questa è l'uguaglianza al giudice con il suo stentorio a cento polacco perché il nostro è un immigrato e da lì poi parte tutta la storia, il nostro va a girare con questa valigia, incontra un suo vecchio amico che gli dice, senti te dai una mano a ammazzare uno che conosco io e che vuole suicidarsi ti butti dentro la valigia, vieni in Polonia e poi si vede un po' cosa succede e dopo tutto questo casino praticamente il nostro arriva in Polonia e riesce a fare una fracca di soldi e a quel punto merita vendetta verso la moglie fino al meraviglioso finale allora Chieslowski mette di fronte un'altra volta a tutti l'animo umano e facendo appunto tre film sulla bandiera francese, libertà, uguaglianza e fraternità qui si parla appunto dell'uguaglianza, uguaglianza che in realtà nel mondo secondo Chieslowski praticamente non c'è un mondo assillato e devastato dal consumismo e dal capitalismo è un Chieslowski che di sicuro non rimpiange, pur essendo dichiaratamente di sinistra non rimpiange veramente di sicuro la Polonia è diciamo così del blocco però è anche vero che qui distrugge una Polonia da un altro punto di vista la Polonia è fatta di un capitalismo sfrenato, fatta di violenza, fatta di un certo tipo di razzismo e in tutto questo viene fuori la forza chiaramente di una regia notevole di una Julie Delphi straordinaria e di un modo di fare insomma del nostro che un'altra volta è qui, che descrive il genere umano descrive tutte le stranezze appunto di una società che vorrebbe l'uguaglianza ma che in realtà non la dona a nessuno un'uguaglianza data esclusivamente dal mondo del denaro e poi questo film è un film molto particolare perché comunque se il film rosso, il film bianco e il film blu erano molto molto più drammatici e cupi nel senso vero del termine e questo ha toni più da commedia in un certo senso grottesco, satirico però usa questa satria e questo modo di essere un po' sopra le righe in realtà per farci riflettere attraverso delle risate perché ogni tanto si ride addirittura però in nerissime una risata che si spinge con un sorriso che diventa quasi una specie di pianto in un certo senso perché è una commedia nerissima con quel finale assurdo con una serie di sequenze, una più bella dell'altra montate in maniera splendida anche la fotografia di Klosinski al solito è fantastica e la sceneggiatura del nostro Chieslowski insieme a Psiab invece il filo con il quale aveva scritto anche il decalogo è ottimo ora qualcuno dice che non è migliore, peggiore, non lo so per me in realtà si ha uno sguardo anche diverso appunto dagli altri che questa metamorfosi esistenziale che ha il nostro dell'essere sempre più distrutto sia a diventare sempre più ricco è un modo appunto che riesce a far sovvertire le regole di un destino già che sembrava scritto in un certo senso dopo le prime inquadrature che invece poi viene ribaltato da un grandissimo Kieslowski che ripeto mantiene i tempi della commedia mantiene i tempi del dramma e ci regala un finale meraviglioso per un film che probabilmente non è il suo capolavoro più grande ma è sicuramente un'altra volta un film di uno dei registri più importanti a storia del cinema che ha regalato appunto con questa trilogia gli ultimi suoi lungometraggi prima della morte purtroppo nel 96 ci ha regalato veramente una serie di film uno più bello dell'altro e questo film bianco visto poi a distanza di 30 anni risulta ancora oggi freschissimo per come tratta gli argomenti per come riesce ad essere incredibilmente innovativo anche a livello proprio di messa in scena di movimenti di macchina che seppur semplici sono sempre al punto giusto l'utilizzo della musica è spettacolare e alla fin fine appunto questo film non può essere altro che consigliato insieme agli altri della trilogia e a tutti quelli che ha fatto il nostro buon il link del film è qua sotto andate sul Patreon mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è il punzante grazie per donare di rientrare direttamente su Youtube se volete seguitemi su Facebook e Instagram per capire cosa faccio a giro per l'Italia e insomma poi di Chieslowski come ho detto fatevi un po' tutto e il film bianco è seppur considerato uno dei minori della trilogia forse lo è sa di fatto che resta un film grandioso veramente sull'animo umano e sulle sue assolute incertezze ecco più che certezze tutto virato a Commedia Nera imperdibile